Proseguono gli appuntamenti al Parco archeologico Palmentelli di Caltanissetta con i Teatri di Pietra. Il 12 agosto infatti va in scena Clitennestra versus Ifigenia da Jorsenare, Euripide e Rasin, adattamento e regia di Manuel Giliberti, musica di Antonio Di Pofi con Simonetta Cartia e Laura Ingiulla. E sulla figura di Clitennestra la moglie di Agamennone che ruota l'attenzione, lei che dopo aver ucciso il marito afferma e fu giustizia. Il re di Argo Agamennone infatti viene ucciso di ritorno dalla guerra di Troia e vicino a lui perde la vita anche Cassandra, la sacerdotessa figlia del re Priamo, resa schiava e concubina del generale. Clitennestra è dunque il motore della vicenda. Dalla colpa di Agamennone della morte della figlia Ifigenia e del suo sacrificio dopo essere stata attirata da Aulide con un pretesto perché la flotta greca potesse salpare alla volta di Troia. Non riesce a dimenticare Clitennestra neanche dopo dieci anni e dopo essersi legata al cugino di Agamennone, Gisto, ordisce la trappola mortale. Il testo Clitennestra verso Ifigenia si legge nel comunicato, ripercorre questa storia come la ricerca della radice più profonda di questa saga familiare fatta di sangue e vendetta. Clitennestra parla e agisce con Ifigenia che è per un fantasma perché in realtà tutto si è già compiuto. Ma la madre rivive il rapporto con la figlia in una sorta di transfer psicoanalitico, ricerca se stesse le sue ragioni o meglio le sue motivazioni. Avviene così, si legge ancora, che nella contemporaneità Clitennestra si colori di sfumature e caratteri che non sempre le sono stati riconosciuti.